Fredo, mentre per lecchie nessuno è entrato, sono entrato i Ganeshkadovic e stati shit al posto rispettivamente di Incazzadovic no scusate, di Indrangadovic non sembra proprio Incazzadovic, se non erro non vorrei sbagliare anzi no, prima mori attenzia ancora qui, attenzia adesso non attacco in D3 e quindi hanno più spazio giù tra Pissi e Lecchini ma ovviamente la difesa deve stare molto a tempo anche perché sono due difese a 3 giocatori anzi no, Lecchini hanno 5 di inizio, è vero ma i due salgono sempre, quindi la prima difesa è a 3 che è a 5 alla fine guardate infatti come adesso bacio con la cannone Giuda Lecchini che come detto hanno perso un giocatore durante il corso della partita, ovvero Tim Ucac attenzia qui sbaglia ma molto il controllo ma muori grande recupero e ti ha strippettuto che risposta qui di Contaminazione mamma mia la palla era sulla linea è riuscita a prenderla incredibile, incredibile attenzia in cross c'è un punto di venire la riusciata sul fondo ha tentato da un gol ha tentato da un gol e ha deliberato il Freedom mamma mia, veramente di pochissimo ma adesso il Freedom con 3 attaccanti con un nuovo in più è davvero molto avvantaggiato rispetto a Lecchini e si trova a rincorrere nonostante il punteggio sia ancora in parità la Trotsky palla parte Lukaccio è il sinistro ribatte Lukaccio in angolo tutti in mezzo va a battere a Riato dice Capitano palla in mezzo pensiamo molto era scattato non si sono intesi bene due bella partita però adesso è accisissima 0-0 ancora Stanito la Trotsky il controllo è un ottimo Martino Kaccio la mette in alto un tiro addirittura la Trotsky la mette in calcio d'angolo partita ancora a Riato tutto in mezzo palla ancora altro calcio d'angolo è il terzo della partita per Lecchini di mano e testa a Riato vince pallone in mezzo la Trotsky non ci arriva palla in bato attenzione attenzione qui contro piede start città attenzione sono 3 contro 3 vediamo adesso se sono abbastanza veloci ci abbatta troppo lenti qua quelli del freedom lanciano l'altra parte per Mamori Mamori ma qui Lecchini hanno fatto rientrare tutti i 5 dimensioni Mamori non ha trovato più lo spazio beh la colpa è questa di stati città che doveva allargare subito il pallone non c'è riuscito la terza più orecchia una spazio attenzione ci abbatta in mezzo orecchia orecchia la terza se ne va orecchia pallone ci abbatta non ci arriva non se l'aspettava non l'ho vista perché il fratello è stato spuso come ho già detto ripetuto molte volte un'espulsione fondamentale se no e poi Lecchi non stanno giocando molto male perché come si dice in 10 si gioano meglio si gioano terza qui da Groschi da spazio e il destro esterno nella rete controllato anche da Roltanzowski e il destro di lo suono rivediamo il destro a bollo non era semplice forse avrebbe dovuto stopparla prima di tirare Mamotto ha salito il giro per Marti Lugazza attenzione da un sostatto dell'esterno destro che è però un sinistro naturale adesso le lecchioni ci provano nonostante il freedom giochi con tre punte le lecchioni stanno facendo la partita ha salito Ladroski Ladroski calcio di rigore raggiungono dubbi calcio di rigore e attenzione cartellino giallo per Madras che è in questo San Vado però attenzione perché qui è un calcio di rigore importante e se il calcio di rigore si andrà dentro infatti va a battere Rastuzia contro Latazoski non può sbagliare Rastuzia la parola di la parola di Latazoski su Rastuzia incredibile e quindi si rimane sul punteggio di 0-0 che parata del secondo portiere del freedom che oggi si sta dimostrando all'altezza di stream trading assolutamente Rastuzia e ne ha acquisto non riesce ancora a sognare e peraltro ha fallito un calcio di rigore quando insomma adesso poi verranno le critiche sulla diligenza perché è veramente di Repro non è il giocatore che l'ha acquistato però io credo che insomma qui nel calcio di rigore o si sbaglia o non perché si è scarso attenzione come diceva la canzone di Gregori insomma un po' che però diceva che un giocatore non dipende se si sbaglia un calcio di rigore o no saremo a vedere nel corso della stagione come andrà a finire anche perché Soglia ovvero oggi non è meglio però insomma Rastuzia vado per la Trotsky Mataschenko per fortuna soltanto ammunito per il settore del freedom ovviamente Rastuzia non vince il controllo e qui adesso si è anche sommerso dai fischi ovviamente non ci troviamo in casa delle chini o in casa del freno quindi i fischi si entrano molto di meno ma Rastuzia sbagliava un calcio di rigore ragazzi non è una cosa da poco vero il giotore non dipende da questo però i tifosi lo sentono sentono quando il giotore non è quello giusto e poi quando si sbaglia un calcio di rigore quello che poteva essere il liberatorio per i lettini portarli a 13 punti ora che il Daname ha perso contro il Danone era importantissimo fondamentale per il futuro di questa squadra Rastuzia gira grande pallone stavolta per la Trotsky diamo un premesso non c'è nessuno non c'è la Trotsky grande pallone di Ariatovic traverso di Ariatovic e queste sono già due traverso prima di Rastuzia e poi di Ariatovic stavolta sempre di testa e beh per esempio di Trotsky di testa è stata facile per la Trotsky per il portiere Sable che partita che partita i Lecchini nonostante i giorni in 10 stanno dimostrando davvero di essere meglio migliori dei LV3 insomma non merita la vittoria e forse neanche il break ma muori padone me è davanti per il bacio ma muori 3 minuti di recupero e poi si andrà a casa e questo fa vorrei dei bei senza dubbi lecchini Stattacitta attenzione il destro che straordinario intervento di contaminazione e si dimostra un bel proprio portiere e già prima ha salvato una volta è un malissimo intervento qui l'altro grande intervento su Stattacitta ha avuto l'opportunità di tirare molto bene l'ha fatto però è un po' troppo lento Canestano ciutti in mezzo attenzione non ci arriva Ciabatta non ci arriva nessuno ma muori però la tiene in campo attenzione il cross dall'altra parte Ciabatta anticipato è finita forse non si la trascida non tiene in campo attenzione fa laterale forse tutta l'occasione non c'è tempo perché insomma 3 minuti sono scaduti è stanito gira c'è il codice questo blanco retroguardia ma finisce qua 0-0 la partita tra finito lecchini lecchini in 10 avevano avuto una grandissima chance con il calcio di cuore ma tu lo darei suci ama grandissima la risposta di Latansowski e mi dò in campo probabilmente lo do a prova a Latansowski anche se contro il mio son dall'altra parte è anche fatto di miracoli anche i latansowski complimenti mi dò in campo qui stanno vedendo il grandissimo giocatore di ciabatta al secondo tempo che stava quello più frivolo di emozioni e poi qui vediamo una grandissima occasione addirittura il cross si trasforma in un tiro poi ha senito pallone in mezzo ama sempre questa occasione ovviamente ma qui il destra ancora di assoluto palla fuori ce li stanno nella rete ci fanno vedere anche il calcio di rigore ecco qui rassugirà tirato anche molto bene basso Martansowski l'avamo capito dicendo a un sinistro mi dirà alla sua destra forse ha visto dove andava il suo sguardo Latansowski peraltro è un portiere esperto quindi probabilmente già conosceva dove sarebbe andrata nel pallone Latansowski qui ci prova ancora può portare qui Ariatovic confine di resta sulla traversa Nitta Nitta la traversa e Latansowski stavolta è abbattuto e poi per concludere questa grandissima occasione per Stat Gita che forse doveva far di meglio in questa nuova circostanza bravo però con terminazione a proteggere la sua porta e il risultato gli ecchi nel momento hanno 11 punti il freedom 8 punti sono ancora troppo pochi però forse Giorda Cruz stavolta si salva e non verrà l'omento esonerato vediamo appuntamento alla prossima partita del nostro calendario della 12esima giornata che vedrà gli ex city contro Dragon Stars una partita fondamentale per il futuro delle prime posizioni alla prossima grazie